L'olivo in Calabria dovrebbe essere considerato una cultura sacra, quasi una cultura, avendo rappresentato per tanto tempo un ascensore sociale per molte famiglie calabresi. Bisogna dire che in questo settore molto è stato fatto, ma molti e molto ampi sono ancora gli spazi di crescita. Così l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo nel corso del confronto in Cittadella, per gettare le basi di una programmazione che rivaluti e potenzi il ruolo dell'olivicoltura come settore trainante dell'economia calabrese. In proposito, ha sottolineato Gallo, non possiamo produrre quasi esclusivamente olio per consumo familiare. Con i nostri oli di qualità dobbiamo iniziare a scalare le vette e a generare ricavi importanti. Contiamo 160.000 ettari di uliveti e 40.000 di agrumi, numeri importantissimi, ma ad oggi sono mancati organizzazione e indirizzo politico. Sono convinto, dice Gallo, che dobbiamo partire da queste filiere per aggredire mercati oltre confine e per fare questo dobbiamo lavorare ad una programmazione certosina ed organica. Tra le tante cose, la necessità di ristrutturare gli oliveti attuali, sostenere l'accesso al credito, pensare ad interventi mirati di promozione, valorizzare il settore dell'olio bio, privilegiare il marchio IGP.